Mentre Bari aspetta di sapere se il suo Consiglio Comunale sarà sciolto e quindi sarà commissariato il Comune di Bari, c'è la bagarre totale, noi in maniera beata, in maniera tranquilla, tranquilla si fa per dire, siamo nella giornata della burocrazia, che in questo caso non ci sta ammazzando, ci sta salvando, o meglio sta salvando Giovanni, Alberto ha salvato noi e noi cerchiamo di aiutare Giovanni a mettere insieme tutta la sua vita, le sue carte, abbiamo avuto l'esenzione, abbiamo potuto scegliere il medico, lo abbiamo mandato a Margaret che ci sta facendo tutto ciò che va fatto per poter finalmente fare l'invalidità, ma resta il fatto che il piede è dolorante e la situazione sta peggiorando e quindi adesso stiamo andando al policlinico per cercare di capire notizie rispetto a quello che sarà, tu invece stai male? Stai facendo male forte il pet, mi sta facendo male forte proprio, mi stai facendo male forte. non è uno scherzo, ve lo abbiamo detto tante volte, ve lo ribadiamo anche oggi, decidere di fare questa cosa non è semplice, noi adesso corriamo all'ospedale, metti dentro i piedi, in attesa di sapere, anche se ho visto la situazione, è peggiorata molto. eh, ma va, eh sì. Quando è stato il tuo altro che sei venuto a fare la vendicazione? Un'ordine, l'escorso. Ecco perché hanno detto che non ti sentivano da, vedevano da 3-4 giorni. Perché non viene una volta a settimana, vedevano da 3-4 giorni. A me, quando ho parlato con il professore ha detto non mi far parlare, perché viene quando vuole lui. Se uno mi dice viene una volta a settimana. Se uno mi dice viene una volta a settimana, ci vuoi dammi, se non si mette d'accordo con la loro. No, mi sa di fatto che la situazione è grave, eh. non lo so, ma la situazione è più grave, la situazione è più grave perché, ho già detto chiaramente, proviamo con quest'altra cosa, cioè se la terapia del dolore non funziona, domani vai da loro, devi sperare addirittura che siano sollevita, non tutto. Con la vampida, eh. Eh, ma con la vampida ti portano tutto? Da sotto la gamba? No. No, solo la vampida di taglio. Solo la vampida. Sperava proprio che si bloccava sopra la vampida, proprio per fare il taglio da là. Ma infatti mi stanno mettendo d'accordo che... è... Ma sta demarcando più sopra? Si sta marcando... Ha marcato tutto ormai, non c'è niente. Cara, non ce n'è più. Tutti noi. Wow, mi stanno mettendo d'accordo con gli ortopedici che devono ricoverare e farlo immortale. Nonostante la terapia del dolore? Eh, si. Si. Ormai è andata, sennò inizio a camminare di più e facciamo i danni ancora di più. Quindi comunque domani vai la terapia del dolore? Si, domani mattina. Se mi fanno sapere a chi ora si. Vabbè manda un messaggio alla dottoressa, magari lei ti può aiutare. Si, lei mi deve mandarmi un messaggio. Almeno. Stiamo andando al medico domani pomeriggio. Scusate per sempre. Ti aiutiamo, come ti abbiamo aiutato oggi. Ti aiutiamo sempre e ti aiutare anche domani. Va bene. Anche se va malissimo. Avicorio Italiano Nobino Non Roba Nobino Nobino Grazie a tutti.